Buongiorno mister, quella di domani sarà l'ultima partita della Fiorentina in questa stagione e molto probabilmente, anche avendo ascoltato le sue parole, l'ultima sua sulla panchina della Fiorentina. Le volevo chiedere a completamento di questo percorso, che poi però è stato anche spezzettato, che cosa le rimarrà se voltandosi indietro c'è qualcosa che non rifarebbe o invece se rifarebbe tutto e qualcosa invece per cui andrà sempre fiero di questa esperienza nella Fiorentina. Prima da calciatore, adesso da allenatore, un'esperienza intensa con il viola addosso. Sicuramente, ti ringrazio per la domanda e non a caso ho preparato dieci righe che poi verranno poste sul sito, sui social di saluto a tutta la città, alla città di Firenze, ai tifosi, ai miei tifosi, a coloro che hanno nel cuore la viola e quindi per me è stata bellissima, un'esperienza bellissima di tante difficoltà che poi si spiegheranno qui perché vivere un'esperienza di lavoro con il coronavirus, il covid, che ci ha uniti, ci ha colpito, ci ha fatto anche male perché tanti l'abbiamo preso, persone che sono state molto male e quindi dentro al nostro gruppo, quindi sono cose che rimarranno nei cuori per come abbiamo vissuto queste stagioni. Però è scritto qui e poi verrà quello che sono, quello che penso, verrà posto sul sito ma quello che resta sicuramente è la grande soddisfazione di aver potuto onorare, dare una mano, vestire ancora con impegno, con dedizione, con lavoro la maglia viola e questo rimarrà per me nel cuore per sempre perché resterò sempre, come sono sempre stato, un simpatizzante, un tifoso di questa squadra. Cesca Bandinelli. Sì, ciao mister. Io riparto dalla partita. È vero che Fiorentina Crotone e la classifica non c'è più niente da chiedere, però una cosa in realtà c'è. La Fiorentina in questo momento è a 39 punti. Conquistare i tre punti, al di là di brindare alla tua 200esima panchina in Serie A con un successo, significherebbe non essere i peggiori del post fallimento. Quindi intanto questo è uno stimolo sufficientemente importante per andare a Crotone cercando i tre punti e poi sulla squadra se pensi, siamo all'ultima, quindi magari qualche vantaggio puoi darcelo, di dare qualche chance a chi fin qui ne ha avuta meno. Grazie. Sì, detto benissimo. Come è giusto che sia, fino all'ultimo minuto dell'ultima partita mi piacerebbe vedere, per come ci siamo detti con la squadra, una squadra che va in campo sempre e comunque per fare una partita importante, una partita concentrata, attenta, organizzata per cercare di portare a casa il meglio, il massimo, perché deve essere nella mentalità, nel DNA di chi va in campo e di chi veste questa maglia. Quindi ci stiamo preparando in questo senso, anche perché siamo lì, siamo vicinissimi, abbiamo recuperato tanti punti a squadre come Udinese e Bologna che passavano, siamo un solo punto da loro, passavano come squadre che stavano facendo un grande campionato, un grande lavoro e alla fine siamo arrivati lì rosicchiando, facendo punti nell'ultimo periodo, tanti punti, siamo arrivati a ridosso di queste squadre che domani affrontano squadre anche loro impegnative e quindi siamo chiamati ad affrontare l'ultima gara con l'impegno giusto, la testa giusta perché ci teniamo a finire bene. Detto questo, rispettiamo molto il Crotone che è una squadra che ha impegnato molto tutti, sta giocando bene, ha giocatori importanti, ha dei giocatori di ottima qualità, ha uno dei capogannonieri chiamiamo del campionato che è Simi, è una squadra che con Cosmi sta facendo un grande lavoro, ha dato sempre grande forza alle partite, mentalità, organizzazione giusta, messo in difficoltà l'Inter, ha battuto il Verona, è andata a Benevento a far risultato anche in dieci contro una squadra che si giocava la salvezza, insomma ha fatto partite molto molto importanti e con qualità e quindi dovremo affrontarla con grande attenzione, grande concentrazione e nello stesso tempo sì, mi piacerebbe dare spazio a qualche altro ragazzo ma poi vedremo negli ultimi allenamenti, con il cuore vorrei far giocare tutti, dico la verità anche tutti quelli che non hanno giocato, poi perché tutti i ragazzi di questo gruppo hanno dato grande disponibilità al lavoro, sono stati molto bravi dentro e fuori dal campo nel momento in cui giocava un compagno erano lì pronti ad incitarlo, a sostenerlo e quindi come merito veramente tutti avrebbero meritato in quest'ultima gara, in queste ultime partite di poter essere in campo anche loro per una partita protagonisti. Vedremo lo sviluppo di quest'ultime ore, come sarà il recupero di qualche ragazzo, come ci arriviamo e poi di conseguenza valuteremo. Di certo è che Pezzella è squalificato, che Milenkovic non ci sarà perché dovrà subire un piccolo intervento e quindi non sarà della partita e quindi già lì qualcosa dovremo cambiare. Ma in ogni caso siamo comunque vigili sul fatto che dovremo affrontarla con grande attenzione, umiltà, una partita dove affrontiamo un avversario che come dicevo prima, ha messo in difficoltà tante squadre nell'ultimo periodo e quindi dobbiamo concentrarsi su questo. Buongiorno a tutti, buongiorno Beppe, due cose al volo è questa. Se i conteggi sono giusti domani sarà anche la tua duecentesima panchina in Serie A, quindi miglior quadratura del cerchio non potrebbe esserci. Una è questa e la seconda, tu dicesti qualche settimana fa che questa società avrebbe la forza di trattenere un giocatore ambito e che si è consacrato quest'anno come Vlaovic. Sei ancora di questo avviso e questo vale anche magari, non so, per convincere Ribery a proseguire o altri giocatori che sono ambiti a restare in questo progetto. Grazie, se questo progetto esiste ovviamente. Sono felice di aver raggiunto questo traguardo delle duecento panchina e mi auguro di, non voglio dire niente, non mi auguro di poterlo festeggiare nella giusta maniera. Andando avanti col discorso, questa società, il Presidente è convinto, sicuramente ha la forza e la potenzialità per poter dare continuità a questi ragazzi, a Vlaovic o agli altri. Certo, tanto passerà per la scelta di chi arriverà ad allenare la Fiorentina. Gli obiettivi, ma non tanto della società, anche degli stessi calciatori, cosa vogliono fare, perché tante volte una società si rapporta anche a quello che è oggi il mercato e quindi ci saranno delle valutazioni da fare. Però in questo momento non faccio il diplomatico, mi piace sempre rispondere a tutte le domande, ma ovviamente non posso dire io quello che potrà accadere, perché saranno valutazioni da fare fra le parti e mi auguro per il bene comune che si raggiungano, che tutti abbiano la stessa visione comune e l'importante è che chi resta abbia la convinzione di poter lottare per la maglia della Viola e farlo con convinzione, con tutto quello che sono quei valori che poi sul campo devi portare. Mario Tenerani Ciao, buongiorno a tutti, ciao Giuseppe Ciao Senti Beppe, ti vorrei chiedere una cosa, la Fiorentina domani potrebbe finire il campionato a 42 punti, a 40, la peggiore ipotesi che certamente speriamo non avvenga a 39. Ecco, io ti chiedo sinceramente, quanti punti secondo te valeva questa squadra quando tu hai iniziato a guidarla nella prima di campionato con il Torino? Ecco, quanti punti ti aspettavi che avrebbe fatto questa squadra? Ma sai, è una domanda difficile perché la palla di vetro non l'abbiamo, non posso dirlo con precisione, però l'unica cosa che so e che posso dire, ma che vale per me, ma vale per, sarebbe valsa per Cesare, sarebbe valsa per qualsiasi, per Vincenzo, per qualsiasi altro allenatore, giusto per far dei nomi che in questi anni ci siamo un po' vicendati su questa panchina. Lo vediamo nelle altre squadre, la continuità di lavoro porta sicuramente un grande miglioramento, certezze nella squadra, nei giocatori, continuità di poter lavorare insieme vuol dire abbassare la percentuale degli errori e alzare le cose positive da portare in campo e farle bene, perché più ci lavori sopra, più riesci ad andare sul dettaglio, sul particolare, nell'organizzazione, nella fase difensiva, nella fase offensiva, nelle conoscenze tra i reparti. È chiaro che questo è un dato a quale non si può controbattere, perché lo vediamo in tante altre squadre, l'Atalanta ha avuto il suo percorso di 5 anni, la Lazio ha avuto il suo percorso di 5 anni e ha raggiunto gli obiettivi, le squadre che hanno il Sassuolo che ha fatto 3 anni con lo stesso allenatore, con De Zerbi, il Verona 2 anni con i 12 consecutivamente senza interrompere il rapporto. Sono lavori che poi sul campo ti ritrovi, ti ritrovi e ti ritrovi ovviamente anche dei punti, perché questo fa parte della continuità. Lo abbiamo visto noi lo scorso anno quando abbiamo lavorato insieme, siamo arrivati nel finale dello scorso campionato, abbiamo fatto una media punti molto molto alta, molto importante in virtù proprio di questo lavoro che avevamo alle spalle fatto insieme di due mesi, solo due mesi, non parliamo di anni, quindi figuriamoci nel tempo e nella continuità quanto sarebbe stato importante, ma non ripeto solo per me, ma anche per qualsiasi altro allenatore, potrebbe dare continuità a un percorso di lavoro, sarebbe stato importantissimo e sicuramente avremmo avuto dei punti in più, questo è poco ma sicuro, perché questo lavoro avrebbe portato a conquistare punti quanti, poi è chiaro che non si può avere la palla di vetro, ma sicuramente avremmo potuto avere dei punti in più dettati appunto da questa continuità. Tommaso Loreto. Salve mister, buongiorno, anch'io resto un po' sul bilancio e le chiedo due cose brevi, la prima se questa è la rosa più forte che le è capitato di allenare in cadiera e se il rapporto col Presidente commisso è stato invece il più stretto, diciamo il più verace che ha vissuto anche in questo caso in cadiera, grazie. No, ma questa sicuramente è una rosa di buoni e ottimi giocatori, fortunatamente ne ho avute anche altre dove ci sono stati ottimi giocatori, dove abbiamo raggiunto risultati importanti, dove si sono valorizzati i giovani importanti, dove si è riusciti a dar valore a giovani che oggi magari sono arrivati in parcoscenici importanti, grazie al lavoro svolto insieme. Questo dà enorme soddisfazione. Per quanto riguarda il Presidente, è un Presidente con il quale ho avuto un ottimo rapporto, ma semplicemente perché è una persona vera, ha riconosciuto nella mia persona il lavoro, il lavoro sul campo, i numeri, ha riconosciuto quello che si è fatto, come si è valorizzato il gruppo, come è migliorato, come è cresciuto, come si è gestito delle situazioni, quindi dentro e fuori del campo, quindi poi il rapporto viene anche in virtù di quello che uno fa sul campo attraverso il lavoro. è una persona alla quale piace la persona che lavorano perché viene da una cultura importante del lavoro, però devo dire che ho avuto un ottimo rapporto e questo lo porterò sempre con me, con lui, la sua famiglia, tutte le persone che sono qui, ma ho avuto la fortuna di dovunque sono stato di avere rapporti importanti, giusti anche con tanti altri Presidenti con i quali mi sento ancora, perché ripeto poi le persone sanno apprezzare la serietà, l'onestà, la preparazione, la competenza, la professionalità di un allenatore, di una persona quando la mette in campo sempre e comunque e lo fa con dedizione, lo fa con dei valori giusti e soprattutto portando a casa anche dei risultati, perché poi conta anche quello. e quindi fortunatamente sono felice di aver avuto questo grande rapporto con il Presidente, però nello stesso tempo posso essere orgoglioso anche di averlo avuto anche con tanti altri Presidenti perché mi hanno potuto apprezzare per quello che sono stato il lavoro mio, dello staff e i risultati che abbiamo ottenuto nel tempo. e quindi sono rapporti che porto orgogliosamente con me, perché fanno parte anche della vita e fanno capire che non solo c'è l'allenatore, ma c'è anche la persona, c'è anche l'uomo e il riconoscimento al lavoro che fa con la serietà e con l'onestà con la quale l'impegno intraprende questa professione. Come ha detto lei all'inizio è stata una stagione complicata, non sempre facile in cui ci sono state anche delle critiche abbastanza forti in alcuni momenti. Ecco, io le chiedo semplicemente se c'è una critica in particolare che le ha dato particolarmente fastidio in questa stagione. No, 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 io faccio questo lavoro e so che è un lavoro che ovviamente va anche di pari passo con qualche risultato, a volte arriva un risultato che può essere migliore, a volte peggiore. Ti faccio l'esempio della partita con il Napoli, è girata su un paio di episodi negativi che magari si sono successi, un rigore un po' così, un autogol e può far cambiare i giudizi, magari se riesce a tenere ancora il risultato gli altri si scoprono di più, vai tu in gol e passa come una prestazione bellissima che hai battuto un'altra squadra come il Napoli. Sono episodi a volte il calcio che determinano alcuni giudizi, ma l'importante è avere nella continuità, avere la consapevolezza di aver fatto tutto quello che c'era da fare. di sicuro, e mi rifaccio una domanda al tuo collega prima, col senno di poi valutare dopo le cose, uno dice si poteva fare così, si poteva magari fare una cosa diversa o meno, ma questo fa parte del nostro percorso di lavoro. Comunque sia, tutte le cose sono state fatte con la condizione di causa e nonostante tantissime difficoltà che sono arrivate. Lo dicevo la scorsa settimana, anche a fine della conferenza, la dimostrazione di attaccamento, di affetto da parte della società, dei giocatori, dello staff medico, dei magazzinieri, con il regalo di quella maglia che mi hanno consegnato con su scritto Grazie e Beppe, con la firma di tutti, sta a significare, forse dall'esterno non si è evidenziato tanto questo sentore, quanto all'interno invece ci fosse tanta tensione, tanta preoccupazione, tanta paura che questa stagione potesse avere un epilogo diverso. Invece tutti insieme siamo riusciti a venirne fuori già tre partite dalla fine, dopo la vittoria con la Valzio eravamo già tranquilli che avevamo raggiunto questo obiettivo che si era posto in corso di stagione e quindi va bene così, andiamo avanti così con la convinzione che questo lavoro porta a volte delle critiche, porta delle cose positive, ma va accettata perché fa parte del nostro lavoro, va letta con anzi è un motivo di crescita, un motivo di condivisione e l'importante è che si abbia l'intelligenza di capire e di andare avanti per quello che è il percorso di lavoro. Paolo Caselli Sì, buongiorno mister, lei quando ha ripreso la seconda parte della sua esperienza alla Fiorentina ha trovato una rosa diversa, quanto è stato difficile non avere a disposizione Cutron e Lirola, Duncan che erano tutti nel giro dei titolari e che lei aveva voluto? Ma è stato difficile, poi l'allenatore non potevo più pensare a chi non c'era, dovevo pensare a chi c'era e con quelli dovevo cercare di trovare un vestito giusto, dare un'identità in breve tempo, soprattutto sotto l'aspetto tattico e anche psicologico, riprendere determinati discorsi, di mentalità, di atteggiamento perché altrimenti il campionato con il calendario che aveva si sarebbe fatto ancora più complicato. E quindi ho lavorato su quello, non ho avuto neanche sinceramente tanto tempo di pensare a questo, anche se hai nominato giocatori che ovviamente hanno dato una mano lo scorso anno, sono stati importanti, però non ho avuto neanche la possibilità di poter valutare a questa cosa perché non essendo stato partecipe al mercato di gennaio non avrei potuto far nulla, quindi se e ma a quel punto non contavano a poco. Serviva essere concreti, pratici, portare a casa la barca all'obiettivo e in porto e farlo in una maniera migliore senza se e senza ma, senza crearsi alibi, senza crearsi né a me che sono una persona che li odia gli alibi né darli a nessuno, tantomeno la squadra, perché sarebbero stati deleteri e pericolosi. Flavio Agnissanti, ultima domanda. Buongiorno, c'è tornasse indietro una scelta che nel mercato estivo non rifarebbe, oppure una richiesta che oggi farebbe, al di là del rammarico del cambio in panchina, che lo sappiamo, però ecco, tornasse indietro un rammarico del mercato estivo? Ma certo, che non rifarei no, perché ripeto, il mio percorso di lavoro prevedeva, come ho detto nelle altre conferenze stampa, resto convinto che la partecipazione a un certo tipo di modo di andare in campo e di voler fare determinate cose era nella testa e quindi anche su Caléon non sono pentito. Non ho potuto portarla avanti, ovviamente, nel momento in cui sono tornato, perché ho visto che dietro avevamo qualche problemino e ci si doveva rimettere sotto, ricorsarsi le maniche, ritornare a lavorare sull'organizzazione difensiva per cercare di tornare a essere più solidi, perché se si voleva far punti e salire in fretta la classifica bisognava pensare a portare a casa un determinato tipo di risultato, senza se e senza ma, e quindi magari non ci siamo potuti allargare troppo, come avevamo fatto lo scorso campionato, quando alla fine avevamo giocato con Chiesa, con Ghezzal, con due punte più ancora un'altra mezzala offensiva che era Castrovilli. Quindi era un obiettivo nel momento in cui è arrivato Caléon, al quale volevo lavorare e volevo portare avanti, all'inizio non è stato possibile, il ragazzo è arrivato e ha preso il Covid, quindi non l'ho avuto quasi mai a disposizione, nello stesso tempo poi quando sono tornato mi sono accorto che avevamo delle problematiche in fretta, mi sono accorto che dietro avevamo delle problematiche e non potevo permettermi il lusso in quel momento di pensare a fare esperimenti, provare, fare cose che magari nel corso della stagione piano piano sono convinto che ci sarei arrivato. Poi nel mercato estivo o meno c'è sempre qualcosa che l'allenatore quando va a parlare con la società vorrebbe e magari non si riesce a raggiungere l'obiettivo, ma questo fa parte di ogni mercato, fa parte del mercato che magari può essere stato, dove posso essere stato io protagonista, come può essere stato protagonista Cesare, come può essere stato protagonista qualsiasi altro allenatore che allena una squadra di calcio. Grazie mister, grazie a tutti, buona giornata a voi, poi darò il comunicato ad Alessandro. Grazie, ciao a tutti.